Avete scelto uno slogan importante e significativo per la manifestazione odierna qui alla San Decenzio a Pesaro? Sì, una manifestazione unica e inaspettata per la gente ma molto significativa, in quanto come responsabile del mercato di Pesaro sono soddisfattissimo dei miei ragazzi che finalmente hanno capito qual è l'importanza di rispettare le donne. Il significato di oggi è quello di non uccidere le donne, questo è il nostro slogan, il nostro slogan è quello molto importante che le donne vanno rispettate, amate e non uccise, importantissimo. Siamo molto contenti di fare questa iniziativa perché è veramente ora di farla finita, è ora che le donne vengono rispettate come tutte le persone al mondo perché senza di loro noi non andiamo avanti, quindi bisogna portargli rispetto alle donne, viva le donne.